Oggi è sabato 15 dicembre 2018, a Bagnacavallo ci sono 7 gradi e il vento soffia a 6 km orari da Nord-Ovest e inaspettatamente mi è arrivato un drone. È il momento dell'unboxing. Il DJI Spark. Perché ho comprato un drone? Questa è una domanda che mi sto ponendo anch'io. Questo drone lo stavo guardando da già un annetto, da quando è uscito avevo visto che questo drone poteva essere la soluzione per avere un drone mentre faccio trekking perché è estremamente leggero e pesa solo 300 grammi, compresa la batteria, però c'è anche il radiocomando compreso in questo bundle perché ho preso la combo Fly More Combo, che è quella con due batterie, il radiocomando ad attaccare al telefono, l'elica di scorta, insomma un po' di robina e l'ho trovata a un prezzo assurdo, su Amazon a 475. Pazzesco, è arrivato di sabato per cui inaspettatamente. Apriamolo e vediamo che cosa c'è all'interno. Ma sto registrando? Partiamo con la prima cosa che c'è all'interno. Un pezzo di cartone. Poi c'è, direi che questo è il drone, la sua custodia. Dentro la custodia ci dovrebbe essere della roba. Il radiocomando. Questo drone è figo perché in realtà si può comandare anche solo dal wifi del telefono, ma ho letto in tutte le recensioni che fa schifissimo. Per cui se non si compra il radiocomando è inutile. Il radiocomando DJI. In realtà ho un'ansia pazzesca perché non ho mai pilotato un drone, non ho mai avuto un drone, quindi... Le cose che possono andare storti sono tantissime, le cose che possono andare bene sono pochissime. Carica batterie. Cavetti, cavetto. Il nostro drone. Meh, è piccolissimo. È veramente strapiccolo. E la batteria è di scorta. Stracaruccio. Guarda qui. Si tiene veramente nel palmo della mano. L'unica pecca di questo drone è che non ha i braccini retrattili come poi hanno il Mavic Air e il Mavic Pro. È il momento di pesare tutti i componenti del drone perché siamo dei folli e mi interessano anche i grammi. Il drone più le paraliche, più una batteria pesa 343 grammi. Una batteria singola pesa la bellezza di 96 grammi. 275 grammi. Leggermente più leggero del drone. Quindi in totale tutto il kit con due batterie pesa la bellezza di 780 grammi. È abbastanza. Adesso devo vedere se effettivamente vale la pena utilizzare questo drone oppure no. Amazon dà la possibilità di restituirlo fino al 31 gennaio. Appunto per quello ne ho approfittato sia del prezzo bassissimo sia del fatto che c'è la possibilità di restituirlo. Perché 780 grammi sono tanti e bisogna vedere anche se questo drone può portare effettivamente un aumento del production value dei miei video. Per cui non resta che andarlo a provare. Drone time! Drone time E' domenica 16 11 dicembre sono le 9.18 A Bagnacavallo ci sono due gradi E il vento soffia a 4 km orari Questa mattina sono andato a vedere l'alba A Marina Romea E a fare le riprese con il drone In realtà sono andato anche ieri pomeriggio a fare le riprese con il drone Al parco del carnet ma non si poteva Upsi Ho stampato quella stampante 3D che vedete là Che alcuni di voi hanno notato Ce l'abbiamo io e i miei amici l'abbiamo preso insieme Ho stampato un cappuccino Però le alettine che si rompono quindi adesso devo vedere come Poterlo usare meglio Mi svesto Che dire questo drone spacca Nel senso io non ho mai usato altri droni Non ho mai usato droni più grossi Quindi non posso dire effettivamente Wow questo drone fa schifo rispetto al Mavic Pro 2 Al Mavic Pro Al Mavic Air Però mi sono trovato veramente bene Cioè io non avevo mai volato in vita mia con un drone Mai Neanche quello di qualcun altro Neanche quello di Omero Neanche quello di Nicolò Quando avevo veramente timore Di pilotare il drone Range Devo dire che mi sono trovato bene Nel senso Ho imparato un attimo a settare bene le antennine E devo dire che con quello che ho fatto Il drone non mi si è mai disconnesso Non ho mai avuto problemi Devo dire che questo drone è stato veramente approvato Adesso devo soltanto leggermi un pochino meglio Le regolamentazioni Per questo drone Perché pesa Così com'è 340 grammi Se ne pesasse 300 Col kit di alleggerimento Che si trova Online Potrebbe ricadere in una categoria Con cui ci sono meno beghe Per farlo volare Adesso in realtà ci sono Un po' di beghe Che devo controllare meglio Perché ieri ho fatto un upsie Ho trovato che ci fossero un paio di cose Che non mi hanno convinto tantissimo Queste sono le batterie Le batterie durano veramente poco Veramente veramente poco Alla fine sono 10 minuti 10-12 minuti Di volo effettivo Per cui Non è tanto Ma sono riuscito comunque a fare Tutto quello che dovevo fare Nonostante La mia incapacità Perché Ovviamente se sai fare Sei in grado di programmare meglio Quello che devi riprendere E quindi Di conseguenza Sprechi meno tempo L'altra cosa Sono che le batterie Ogni tanto non mi si caricavano Ogni tanto si caricavano Penso di aver capito come mai Comunque così Il drone è acceso Qua indica Quanta batteria c'è rimasta Se uno preme E spegne Il drone si spegne Se Per caso Si preme la batteria E si riaccende la batteria Quando la batteria è staccata Non si carica Quindi questo mi avrà dato Un attimo di Problemi subito Si carica bene Anche col power bank Tramite Il suo bellissimo culetto Dove si infila anche La micro sd Il drone L'ho chiamato The flying naso Perché Mi sembrava il caso Di avere Oltre a un naso che cammina Anche un naso che vola Probabilmente ci farà una bella Serigrafia di un naso sopra Se lo tengo Ho provato Il tracking E come avete visto Funziona Veramente bene Mette un'ansia incredibile Per cui Questo drone Sembra veramente Fatto apposta Per fare tracking E per fare quello Di cui ho bisogno Bene gente Vi ricordo L'ho pagato 475 Adesso Su Amazon È già tornato A 540 Che è comunque In offerta Perché è il prezzo Che si trova sul sito DJI Ho avuto culo Bene gente Ci vediamo Con il prossimo video Ciao E hai vatti a mia mamma Ciao